Finisce questa volta con il gesto consueto e inconsueto della chiusura di puntata, questa apertura, questa chiusura abbiamo detto basta che noia, eh James, cioè voglio dire, bravo, bravo, che tocca fare, che tocca fare, abbiamo visto tanti servizi, tante news, tante belle cose, tante belle cose, vi tocca rivedere noi in chiusura, quindi subiteci un altro po', ci avete subito all'inizio, ci devono subire anche alla fine, però ben presto, ma ci subiranno per molto, molto, no, addio, speriamo, anche di cambiare perché ogni puntata è sempre diversa e cambiano anche i conduttori e a proposito di questo svegliamo anche una cosa, nella prossima puntata faremo vedere un volto nuovo, ogni tanto tocca farlo vedere, quindi diciamo che in apertura abbiamo visto la sua mano, la rivediamo per favore, pronto, pronto, vediamo la mano, vedi funziona, quindi questa mano, se volete sapere di chi è, e non è la mia perché qui, vedi una sta qui e una sta lì, se volete sapere non vi resta che guardarci la prossima, settimana. Anni Moon Moon